Sono il caporal maggiore capo Russo Giacomo del 21esimo reggimento Eugenio Guastatori e questo è il mio equipaggiamento personale. Per la mia protezione individuale indosso giubbotto antiproiettili e un elmetto. Come arme individuali ho una RX TAC calibro 5,56 x 45 mm nato, una pistola calibro 9x19 Parabellum e una serie di attrezzature tecniche per l'assolvimento del mio incarico. Una personal radio per la comunicazione a livello squadra, un metal detector cerca metalli con una stila di sondaggio chiamata Broder per effettuare una ricerca minuziosa del terreno.